Siamo al canile Aipa di Atripalda e praticamente piovono cuccioli, abbiamo un'intera cucciolata, sono veramente tanti tanti piccoli e ne cominciamo a presentare uno, anzi una lei è Greta e la tiene tra le braccia Margherita, una delle volontarie dell'Aipa, Margherita raccontaci un po' com'è questo cagnolino, una femminuccia, quali sono le sue caratteristiche? È una femminuccia, l'Italia medio piccola, non avrà più di 10 kg penso, non arriverà, è piccolina, ancora ha pancino grande grande, mangia tanto, la mamma è piccola, lei si chiama Greta ed è bellissima, adesso la facciamo vedere, è bella, timida, ancora timida perché giustamente l'uomo non lo conosce ancora tanto bene, Margherita naturalmente questa cucciolotta sarà affidata dopo essere stata bacinata, bacinata, microcippata, ovviamente così, quindi sarà una cucciola perfettamente in salute, bella è bella e lo vediamo e si vede anche che è una cagnolina molto dolce, e mangia tanto, si è addormentata dentro la ciotola con i croccantini, ok allora venitela a prendere qui ad Atripalda il canile Aipa, e tanto tanto amore per tutta la vita.